Sarà una partita dura perché loro sono una squadra che, secondo quello che mi pare a me, possono vincere con qualcuna squadra e possono anche perdere. Perché l'ho visto un paio di volte, è una squadra che magari è forte, davanti, ma rischiano tanto. Quello che vedo io è che rischiano tanto, quindi noi dobbiamo stare attenti perché hanno un bel attacco, però lasciano tanto spazio dietro, quindi se siamo un po' furbi lì dobbiamo capire dove possiamo fare male alla loro squadra. Quindi sarà una partita dura ma che sempre dipende da noi.